Il progetto che segue quattro associazioni attive nella sanità, Grillo Parlante, Piano Terra, Casa dei Cristallini, LES e tra parentesi. Metterli come protagonisti in campo per parlare del quartiere, un quartiere bellissimo, il quartiere sanità, che ha una grande potenzialità in loro stessi e proprio nella bellezza del quartiere. Y.U. è proprio la narrazione di un viaggio alla scoperta di un quartiere che è potenzialmente bellissimo e che non si conosce ed è un viaggio che appunto grazie alla trama, alla forte trama dell'Odissea, che è il libro dei libri, parla appunto di questo viaggio di scoperta. In cosa consiste il vostro progetto? E utilizzare i laboratori che sono altamente professionalizzanti, in qualche modo che si occupano di cinema, di scrittura cinematografica, di tecniche, di montaggio, anche di trucco, le professioni proprio dell'audiovisivo, e di renderli immediatamente protagonisti e quindi lavoratori proprio del progetto. Grazie a tutti.